Buonasera, bentrovati. C'è stato un significativo salto in avanti nello scontro tra la Russia e la coalizione occidentale per quel che riguarda il conflitto in Ucraina. Naturalmente da qui partiremo tra poco con il telegiornale. Nella sostanza il presidente russo Putin durante un'intervista a Russia24 ha annunciato che verranno dispiegate delle armi tattiche nucleari in Bielorussia. Lo ha detto e lo sentirete tra poco anche con toni piuttosto sarcastici facendo il paragone con quanto avviene a suo dire in Europa. Peraltro questo è incontestabile laddove vengono schierate armi degli Stati Uniti nei paesi europei. Ci sono le basi americane come è noto. Ma questo è il motivo per cui Putin ha deciso di rilanciare questa provocazione ennesima del presidente russo. E' stata letta in qualche modo come una risposta indiretta anche se è arrivata qualche giorno dopo alla decisione della Gran Bretagna di inviare armi all'uranio impoverito in Ucraina. Cercheremo di capire che significato ha questa dichiarazione dal punto di vista politico e geopolitico. Anche perché è arrivato proprio nella giornata in cui invece sembrava esserci qualche nuovo spiraglio di tregua. Perché il presidente turco Erdogan era tornato a ribadire proprio a Putin l'importanza di interrompere il conflitto e di cercare di sedersi a un tavolo negoziale per trovare una tregua tra le parti. Vedremo poi nel corso del giornale che oggi è una giornata importante anche per un accordo che ci riguarda tutti da vicino anche se apparentemente fa riferimento a una data molto lontana cioè il 2035. Cosa è successo? Che a Bruxelles è stato trovato un accordo con la Germania per far sì che ci possa essere una deroga all'utilizzo degli e-fuel, la cosiddetta benzina sintetica. Cioè sono quei carburanti, lo vedremo meglio nel dettaglio, che vengono prodotti con una catena diciamo ecologica tra virgolette. Questo permetterà molto probabilmente martedì prossimo al Parlamento europeo di ratificare quel regolamento importante che prevede il blocco della produzione delle auto e degli autobus e di tutte queste macchine che vanno avanti con i motori termici, cioè che vanno a benzina e a diesel o a GPL per capirci. Vedremo che questo però ha fatto abbastanza infuriare il governo italiano che invece aveva chiesto una deroga sui biocarburanti che sono cosa diversa, ma cercheremo di fare ordine nel giornale. Poi vedremo come l'altra questione dei migranti resta in primissimo piano perché continua a esserci un arrivo massiccio di migranti nel nostro paese, soprattutto sull'isola di Lampedusa, proprio a ridosso di quell'incontro importante che c'è stato ieri, un faccia a faccia lungo più di un'ora tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron, in cui sono stati affrontati molti argomenti a chiusura del vertice europeo, ma soprattutto sono stati affrontati quegli argomenti che avevano reso i rapporti tra Roma e Parigi molto tesi. Di fatto la Meloni e Macron si erano visti in due faccia a faccia informali, prima a Roma e poi a Sharm el Sheikh. In questo modo sono stati riaperti i canali di comunicazione in maniera importante, anche perché, a dire la verità, probabilmente il Presidente francese si è in qualche modo rilassato ad affrontare questi argomenti europei, vista la situazione che ha nel suo paese, perché lo vedremo nel telegiornale tra poco, dopo settimane di scontri e di proteste nelle città contro la riforma delle pensioni, che poi peraltro è stata, come sapete, e come è noto, approvata. La protesta adesso si è spostata, si è aperto un altro fronte di protesta nelle campagne per motivi legati alla costruzione di bacini idrici. Vedremo nel dettaglio che cosa significa. Fatto sta che insomma il fronte si continua a compattare contro il Presidente francese, vedremo che conseguenze politiche questo avrà. Ma ci sono molte altre notizie, in particolare una che annunciamo da subito, faremo i complimenti a Irma Testa che ha vinto una boxeuse, ha vinto i campionati mondiali di pugilato femminile, stracciando l'ennesimo record. Lo vedremo tra poco nel giornale. Intanto tra 30 secondi i titoli. La nuova provocazione di Putin sullo scenario della guerra ucraina. Mosca schiererà armi nucleari, tattiche in Bielorussia. In arrivo alla fornitura di aerei e il sistema missilistico Iskander. Contro la minaccia russa, patto tra i paesi nordici per la creazione di una difesa aerea comune. Stop alla guerra e negoziati di pace il prima possibile, chiede invece il turco Erdogan nel colloquio con Putin. L'emergenza continua a Lampedusa. 19 sbarchi in poche ore, oltre 60 da ieri, quasi tutti dalla Tunisia. Sono già 3.000 i migranti accolti nell'hotspot dell'isola e altri 2.000 potrebbero arrivare tra stanotte e domani. Diversi i naufragi. Sette cadaveri sono stati recuperati nelle acque sarmaltesi. A Cutro intanto è stato trovato il corpo della novantesima vittima del naufragio. Accordo raggiunto tra Unione Europea e Germania sui carburanti sintetici. Potranno essere immatricolati anche dopo il 2035. I veicoli con motore a combustione che utilizzano gli e-fuels, combustibili neutri per il clima cosiddetti. L'Italia puntava però sui biocarburanti. È un danno per noi e tutto il resto d'Europa. Attacca infatti Forza Italia. Rischiamo di pagare a caro prezzo l'ambientalismo folle della sinistra. Scosse di assestamento tra le forze politiche. In Forza Italia si rafforza il fronte governista dopo la sostituzione di Cattaneo con Barelli. Nuovo capogruppo La Camera tramonta l'era Ronzulli. Ma c'è aria tesa anche nel PD. Entro lunedì Stefano Bonaccini aspetta una risposta dalla segretaria Lischlein sulla linea e i capigruppo. Serve unità, dice, a patto che sia reciproca. Pugni mondiali, è davvero il caso di dirlo. Irma Testa è la nuova campionessa del mondo di pugilatro. Nella finale di Nuova Delhi l'italiana ha sconfitto la kazaka Iberaghimoga nella categoria dei 57 kg. Per Irma Testa è il primo oro in carriera. Per questo titolo sacrificato tutta la vita, esulta, ma ne valsa la pena. Ora l'oro che manca, quello olimpico. Medaglia d'argento per l'altra azzurra, Sirine Shaharabi, 52 kg. Buonasera, bentrovati. Allora ve lo dicevo, c'era forse da aspettarselo perché la risposta della Russia alla decisione della Gran Bretagna di inviare armi con uranio impoverito era stata commentata in maniera verbale ma non con fatti da parte di Mosca. Invece oggi, a fine pomeriggio, c'è stata un'intervista importante di Putin, prima a Russia 24, poi ad altri media nazionali, in cui il presidente russo ha di fatto lanciato quella che viene eletta e vista come l'ennesima provocazione ma che viene anche incarnata da decisioni politiche e tattiche sul campo perché è stato annunciato l'invio e il dispiegamento di armi tattiche, appunto, nucleari, non in Russia naturalmente ma nel paese più stretto alleato, cioè la bianca Russia, la Bielorussia. Abbiamo già consegnato alla Bielorussia, all'Iskander, il sistema missilistico per armi nucleari tattiche e a breve schiereremo nella stessa area 10 aerei in grado di trasportare altre armi nucleari. Il presidente russo Vladimir Putin lancia la nuova provocazione sulla scena del conflitto ucraino e lo fa anche con toni sarcastici quando spiega non trasferiremo le nostre armi nucleari in Bielorussia su richiesta di Minsk, le metteremo lì anche per addestrare i soldati bielorussi, proprio come fanno gli americani in Europa e poi annuncia entro l'anno la produzione di almeno 1600 carri armati di nuova generazione e fa sapere che anche Mosca ha le sue armi all'uranio impoverito. Fin qui quella che sembra la risposta alla Gran Bretagna sull'utilizzo delle armi all'uranio impoverito è arrivata proprio nel giorno in cui invece il presidente turco Erdogan prova a riparlare nuovamente di pace. Da buon amico della Russia Erdogan chiede a Putin di sforzarsi per una cessazione immediata degli scontri e dei bombardamenti. lo può fare proprio in nome dei buoni rapporti che legano. Entrambi i leader vogliono rafforzare la loro partnership, stiamo parlando di affari e politica tra energia, commercio e cooperazione economica. Sono ancora due schierate intanto davanti le coste del Mar Nero, le navi da guerra russe armate con batterie di missili calibre. Abak Muth non ha vinto ancora nessuno delle due parti. La battaglia ha ampliato il suo raggio ma si spara di meno. Il capo dei mercenari del gruppo Wagner, Prokosin, ha annunciato la grazia concessa a 5.000 condannati russi per aver combattuto contro l'Ucraina. Irrompe poi sulla scena della guerra di Putin la figura di Elvira Vikareva, 32enne esponente del fronte d'opinione anti-Putin. Avvelenata in circostanze non chiare, mesi orzono, con sali di metalli pesanti che l'hanno messa a rischio della vita. Da allora, per ragioni di sicurezza, spiega su Telegram, ha fatto sparire le sue tracce. Ora è riapparsa per ribadire il suo impegno antiregime, rivolgendosi nel post a chi secondo lei l'ha avvelenata. Ha detto, non mi nasconderò, non starò zitta. Andrò avanti contro gli assassini di Codardi che guidano il paese. Sulla risposta da dare alla Russia e sull'alleanza con l'Ucraina, l'Europa si è sempre mostrata compatta negli ultimi mesi e così è stato anche all'ultimo vertice europeo che si è chiuso a Bruxelles ieri. A Bruxelles però è avvenuto anche qualcos'altro, perché ieri appunto a chiusura del summit c'è stato un incontro, un faccia a faccia bilaterale tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron che ha in qualche modo riaperto in maniera più fluida i rapporti istituzionali tra Italia e Francia dopo che si erano verificati screzzi diplomatici, lo scontro con Piantedosi, il mancato invito ha fatto all'Italia, al Vertice, all'Eliseo a cui invece ha partecipato la Germania e soprattutto la questione migranti, chi deve gestire la questione migranti. Su questo la Meloni ha detto che si è riaperto appunto il canale di comunicazione con la Francia, nel frattempo però la cronaca preeme perché sono continuati, ripresi gli sbarchi in maniera massiccia ed è di nuovo record di arrivi. Mai così tanti come in questi ultimi due giorni, gli sbarchi si succedono uno dopo l'altro sulle coste italiane. L'aereo di Frontex ha comunicato che sono decine e decine le imbarcazioni dirette verso il nostro paese. Nelle ultime 36 ore, su una cinquantina di barche soccorse, 44 erano salpate dal porto tunisino di Sfax. Aumentano le vittime dei naufragi. Sette cadaveri sono stati recuperati nelle acque sarmaltesi dopo il rovesciamento di due barconi. Ma nel Mediterraneo il pericolo non viene solo dal mare. Questa motovedetta libica spara per intimorire Ocean Viking, la nave dell'ONG SOS Mediterranea, durante un'operazione di soccorso di un gommone in difficoltà. Non potete spararci contro, siamo in acque internazionali e stiamo lasciando l'area, gridano via radio dall'imbarcazione. Questa mattina siamo stati minacciati dai guardi a coste libici, finanziati dall'Unione Europea, denuncia SOS Mediterranea. Un'azione che ha impedito con decisione il soccorso dei migranti riportati in Libia. Nelle ultime ore la nostra guardia costiera ha soccorso nell'area sara italiana oltre 2200 migranti. Tra questi anche i 500 sbarcati poi sulle coste calabresi. La nave 18 ha salvato mille naufraghi. Anche la nave di Emergency è riuscita a concludere tre operazioni di soccorso in poche ore. Dopo i 78 migranti recuperati questa notte da un gommone ormai sgonfio, la Life Support ha salvato decine di migranti a bordo di due pescherecci. C'erano donne neonati che non bevevano da ore, ha riferito l'equipaggio. Nell'emergenza sbarchi, come sempre, Lampedusa si conferma il primo avamposto europeo. In poco meno di 24 ore l'hotspot dell'isola è arrivato a 2500 ospiti. A fronte di 400 posti letto. La stima è che se ne aggiungano altri 2000 entro domani. Le moto vedette continuano a far sbarcare i naufraghi. 19 arrivi solo dalla mezzanotte. Oltre che dalla Tunisia, i migranti provengono da Gambia, Togo, Costa d'Avorio e Guinea. Alcuni hanno riferito di aver pagato per la traversata 4000 dinari tunisini, 1200 euro. Ed oggi vicino Crotone è stato recuperato il corpo della novantesima vittima della strage di un mese fa a Steccato di Cutro. La Premier Meloni si è detta molto soddisfatta al termine del Consiglio europeo, ma non c'è stato il concreto cambio di passo sulla migrazione dalle richiesto. Preoccupa il flusso dalla Tunisia. Se questo paese crolla, aveva avvertito Meloni, si rischia che arrivino 900.000 rifugiati. Un alert che non ha prodotto azioni comuni dell'Unione europea. A Bruxelles invece, sempre in Belgio, è stato trovato l'accordo tra l'Unione europea e la Germania sugli e-fuel. Per capirci, perché la questione è piuttosto complessa e intricata, gli e-fuel sono quei combustibili che vengono prodotti secondo un processo che è sostenibile, cioè il processo di produzione di questi carburanti non inquina. differenti sono invece i biocarburanti, quelli che vengono prodotti con materie biologiche. Su questi e-fuel è stato trovato l'accordo, cioè potranno essere prodotti anche dopo il 2035. C'è una deroga per loro, ma questo non ha affatto soddisfatto il governo italiano. Sentite perché. L'accordo della Commissione europea con la Germania sull'utilizzo dei carburanti sintetici nelle auto anche dopo il 2035, l'anno dello zero CO2, è una grande vittoria per Berlino, che però scontenta alcuni paesi, tra cui l'Italia, che aveva puntato tutto sui biocarburanti, bocciati invece dall'Unione europea. Il vicepresidente della Commissione con delega al clima, Franz Timmermans, annuncia con un tweet l'intesa per la vendita di auto nuove con motore a combustione alimentate esclusivamente con e-fuel, alternative ecologica e combustibili tradizionali anche dopo lo stop dal 2035 a benzina, diesel e GPL, uno dei pilastri del piano europeo per la neutralità climatica entro il 2050 che spalancherà le porte all'auto elettrica. Salvo colpi di scena, i ministri dell'Energia dei 27, riuniti a Bruxelles, dovrebbero adottare il regolamento già martedì prossimo. Il voto contrario annunciato da Italia e Polonia e l'assenzione della Bulgaria, che vale come un no, non saranno sufficienti a bloccare la nuova classificazione del carburante sintetico ad emissioni zero, prodotto mediante un processo di elettrolisi dell'acqua e sintesi di CO2 in Germania e anche in Islanda, lasciando prevedere il via libera in tempi rapidi da parte della Commissione dopo un lungo braccio di ferro con Berlino. Il nodo è la definizione di carburanti neutri, da cui a questo punto resterebbero fuori biocarburanti ricavati da colture e scarti organici, su cui ha puntato l'Italia, Eni in testa, e il governo di Giorgia Meloni, rientrata però dal vertice di Bruxelles a mani vuote, senza garanzie. Il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, non demorde. Il governo, dice, è determinato a proseguire sulla strada del buonsenso a tutela dei posti di lavoro e dell'ambiente. Anche il ministro dell'ambiente, Gilberto Picchetto-Fratin, parla a Bruxelles. L'Europa non si dimostri irragionevole, dice, l'Italia è impegnata a fornire tutti gli elementi utili per far comprendere all'Unione Europea, in modo scientificamente e razionalmente inappuntabile, l'importanza di inserire biocarburanti tra i combustibili verdi. Ma i partiti di maggioranza, avete sentito i ministri citati nel servizio, in queste ore sono anche alle prese con un sostanziale riequilibrio all'interno dei diversi partiti, in particolare all'interno di Forza Italia. Sentirete che cambiano i rappresentanti alla Camera e anche gli equilibri di potere all'interno dello stesso partito di Berlusconi. Questo anche, ma non solo, in vista del prossimo appuntamento elettorale, che è quello della primavera del 2024, delle europee, ma anche e soprattutto per rimettere in equilibrio le forze dei partiti interni, quelle che sostengono l'esecutivo. In Forza Italia non cambia nulla. Il leader è uno soltanto ed è Silvio Berlusconi. Ma per rendere più efficiente la macchina in vista delle elezioni europee è stato dato in carico ad altre persone di guidare i coordinamenti regionali, commenta Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, il giorno dopo la bufera scatenata dalla decisione di Berlusconi di aggiornare le cariche parlamentari e interne al partito. Governista della prima ora, Tajani viene indicato come il vero vincitore della partita sui rivali Cattaneo e Ronzulli. Il primo rimosso da presidente del gruppo a Montecitorio, sostituito da Paolo Barelli, la seconda confermata capo del gruppo in Senato, ma fatta fuori dal ruolo di coordinatrice in Lombardia. In carico preso da Alessandro Sorte, vicino a Marta, fascina la compagna di Berlusconi. Sì perché, se la linea governista di Tajani è stata premiata dagli avvicendamenti, il riequilibrio lo avrebbe voluto proprio fascina, insieme ai figli di Berlusconi, secondo i retroscena dei giornali. Un cambio di passo che comporta l'addio alla linea conflittuale tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, emersa fin dal momento della formazione del governo sul ruolo dell'Aronzulli, che, sostenuta da Berlusconi, rivendicava per sé un posto come ministro. Fibrillazioni che all'inizio della legislatura avevano portato Forza Italia a mettersi di traverso anche nell'elezione del nuovo presidente del Senato. Il gruppo, a parte Berlusconi e Casellati, non aveva votato Ignazio Larussa, eletto con il sostegno dei senatori dell'opposizione. Ora la svolta in vista del voto europeo, ha scritto Berlusconi nella nota ieri sera nella quale annunciava i cambiamenti. Per arrivare pronti al voto dell'anno prossimo, conferma oggi Taiani. Cambiamenti che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. L'obiettivo è evitare strappi, ma dentro il gruppo di Forza Italia non tutti avrebbero digerito il passaggio. Non solo, bisognerà anche verificare quanto questo cambierà nei rapporti con gli alleati. Fino ad oggi l'asse privilegiato era quello tra Salvini e Berlusconi. Ora qualcosa potrebbe cambiare e secondo molti osservatori decisivo sarebbe il ritorno in gioco di Gianni Letta. In campo per gestire la partita delle nomine nelle partecipate di Stato, puzzle nel quale rientrano i vertici di Monte dei Paschi. Nel pomeriggio si è saputo che il Ministero dell'Economia ha confermato l'attuale addì Luigi Lovaglio. Come presidente arriva Nicola Maione. L'altro fronte invece è quello del Partito Democratico sia alle prese con un sostanziale cambiamento dovuto ovviamente all'elezione della neonsegretaria Elie Schlein. Oggi Stefano Bonaccini ha riunito i suoi in vista dell'elezione dei portavoce di Camera e Senato. Vediamo che cosa è emerso. Entro lunedì attendo da Elie una proposta complessiva sui capigruppo le ho consigliato prudenza. Estrapolate da discorso tenuto alla riunione con quelli che lo hanno sostenuto al Congresso le parole di Stefano Bonaccini il candidato segretario PD sconfitto alle primarie ed Elie Schlein e oggi presidente del PD sembrano un ultimatum. Eppure nel tono né soprattutto i numeri dei partecipanti alla riunione autorizzano questa sintesi. Ho registrato malumori fra voi e ho rappresentato questo quadro problematico alla segretaria ha spiegato Bonaccini. I malumori erano lievitati negli ultimi giorni favoriti dalle mancate riunioni dei gruppi parlamentari che Schlein ha fissato solo per lunedì e martedì prossimi e soprattutto dalla decisione a questo punto poco modificabile di nominare due capigruppo entrambi della sua mozione due fedelissimi come Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera. C'era l'accordo con Bonaccini nel momento in cui è diventato presidente dicono nell'antourage della segretaria un accordo che ha seminato scontento fra i sostenitori del governatore dell'Emilia decisi a far pesare la composizione dei gruppi parlamentari non tarata sui risultati del congresso numeri che sulla carta avrebbero potuto dare la minaccia a filo da torcere e invece così non è stato alla prima riunione convocata per questa mattina su pressione soprattutto di Lorenzo Guerini e Graziano Del Rio i Bonaccini anni si sono spaccati 20 assenze riconducibili ai Lettiani fra loro Marco Meloni Anna Scani e Franceschiniani come Pina Picerno o delusi come Enrico Borghi hanno dimostrato plasticamente che a favore di Schlein i numeri sono già aumentati vuole Boccia e Braga perché punta alla corrispondenza perfetta fra le cose che sosterrà in piazza e la loro traduzione parlamentare perché in piazza ci andrà spesso sussurravano oggi parlamentari vicini alla neosegretaria e comunque dicono Ellie non commenterà meglio stare alla larga da queste battaglie da trapassato remoto e parlare d'altro la linea eppure il presente stringe martedì capigruppo dovranno essere votati e a questo punto lo stesso Bonaccini peraltro fuori dal Parlamento sul mandato del suo drappello di parlamentari punta a chiudere l'accordo i segnali ostili sarebbero stati più che altro il tentativo di drenare i malumori e delusioni l'obiettivo resta una gestione unitaria del partito segreteria rappresentativa anche della minoranza uffici di presidenza dei gruppi che ne tengano conto si vedrà Bonaccini intanto lo ha detto lui in settimana sarà in missione in Texas e invece in Francia alla sinistra o meglio il centro-sinistra il partito del presidente Macron ha tutt'altro tipo di problemi perché dopo settimane di scontri sulla questione della riforma delle pensioni adesso si è aperto un nuovo fronte di protesta nelle campagne non bastava la rivolta di piazza che dura da giorni contro la legge sulle pensioni la Francia ora si trova ad affrontare la furia anche degli ambientalisti che hanno creato un gruppo compatto con gli autonomi e l'estrema sinistra contro la costruzione di 16 bacini idrici in tutto il paese gli invasi dovrebbero aiutare gli agricoltori a combattere la siccità nei mesi estivi e sono ritenuti però di impatto ambientale non sostenibile così dalle città il terreno di scontro questo pomeriggio si è spostato in campagna proprio nei pressi di uno di questi bacini quello di Saint-Solein nel dipartimento di Desèvres nella regione sud-occidentale della Nuova Quitania tra Nantes e Bordeaux una manifestazione vietata dal Ministero dell'Interno organizzata per bloccare i lavori si è tenuta comunque e si è rapidamente trasformata in guerriglia tra chi protestava 6.000 persone secondo la prefettura 25.000 secondo gli organizzatori e i 3.000 poliziotti inviati in preciso al momento le cifre dei feriti forse 50 tra i manifestanti e 27 tra le forze dell'ordine un poliziotto sarebbe grave tutto è cominciato con una sassaiola contro la polizia che ha impedito agli ambientalisti di avvicinarsi al bacino idrico dai sassi si è passati rapidamente al corpo a corpo con spranghe e bastoni al lancio di fuochi d'artificio e di alcune molotov che hanno incendiato almeno tre blindati la risposta dei gendarmi con idranti e l'uso di gas lacrimogeni a Saint-Solein l'ultra e l'estrema sinistra sono state molto violente contro i nostri poliziotti ha commentato su Twitter il ministro dell'interno francese Gérald Darmanin nessuno dovrebbe tollerarlo la vicenda dei bacini idrici è un'ulteriore fonte di caos in un paese che in una settimana ha visto nelle manifestazioni contro la riforma delle pensioni il ferimento di 400 persone e l'arresto di altre 500 una situazione talmente tesa da costringere Parigi a denunciare pubblicamente le difficoltà nel mantenere l'ordine rinviando tra le polemiche la visita del principe Carlo che sarebbe dovuta cominciare domani negli Stati Uniti invece sono alle prese nello stato del Mississippi con un tornado che ha devastato il paese e il rischio è che si sposti in altri stati sempre limitrofi tanto che ci sono 30 milioni di americani di statunitensi in allerta Pioggia battente e chicchi di grandine come palle da golf temporali e fulmini e il vento a oltre 110 km orari la furia del tornado che ieri sera si è abbattuto sul Mississippi ha devastato intere cittadine Silver City e Rolling Fork non esistono praticamente più ed è qui che sono concentrati i soccorsi per cercare di tirare fuori dalle macerie chi è rimasto intrappolato il bilancio provvisorio di 23 vittime decine di persone ferite e almeno 4 dispersi centinaia quelle che non hanno più una casa oltre 30 milioni di persone sono state messe in stato di allerta per il rischio di allagamenti e per le forti raffiche di vento senza contare le circa 100.000 persone ancora senza elettricità tra Alabama Mississippi e Tennessee gli stati del profondo sud americano attraversati per oltre 160 km dal tornado numeri che sono destinati a salire e ammesso questo pomeriggio l'agenzia statale per le emergenze ed ecco così è rimasto case ridotte in macerie alberi spezzati tralicci dell'elettricità di Velti auto distrutte scaraventate al suolo dopo essere state portate via e trascinate per chissà quanti chilometri dalla vorticosa colonna d'aria devo soltanto ringraziare Dio che mi ha protetto posso solo ringraziare che sono riuscito a vedere un altro giorno ieri il servizio meteorologico nazionale aveva diramato un'allerta per il rischio di tornado in diverse contee del Mississippi così è stato da lì è iniziato il percorso devastante verso il nord ovest dello stato fino all'Alabama e il Tennessee le immagini provenienti dal Mississippi sono strazianti saremo presenti per tutto il tempo necessario ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha promesso aiuti federali per dare sostegno alle vittime dall'inizio di quest'anno sono stati 168 i tornado che si sono abbattuti sugli Stati Uniti e la stagione dei tornado in questi stati del sud sta per iniziare aprile, maggio e giugno sono i mesi peggiori e già c'è un'allerta per le prossime ore sono attese forti tempeste tra il Texas orientale la Louisiana centrale il Mississippi centro meridionale l'Alabama e la Georgia ancora dall'estolo volevo dirvi che per l'ottava dodicesimo scusate non ottavo dodicesimo sabato consecutivo in Israele i cittadini sono scesi in piazza contro la contestatissima riforma giudiziaria queste immagini che vedete arrivano in particolare da Tel Aviv oggi si è raggiunto una cifra record di manifestanti oltre 630 mila persone la protesta contro la riforma giudiziaria voluta da Netanyahu è stata così massiccia in queste settimane che oggi addirittura il ministro della difesa Yav Galan ha chiesto pubblicamente di fermare la legislazione è il primo membro del governo a farlo dunque davvero la situazione sta diventando ingestibile per Netanyahu vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni torniamo in Italia ancora una notizia di manifestazioni questa volta a Venezia una manifestazione non autorizzata peraltro di un centinaio di anarchici che ha provocato significativi disagi soprattutto per i commercianti che sono stati costretti a chiudere in anticipo i negozi e naturalmente per i turisti che sono stati sorpresi dalla manifestazione eccolo vedete c'è stato anche un momento di tensione durato per fortuna solo pochi secondi perché le forze dell'ordine hanno accennato una piccola carica siamo nella zona di Campo San Rocco per disperdere gli anarchici una quarantina si erano radunati per protestare contro il 41 bis in solidarietà ad Alfredo Cospito 700 agenti impiegati alla fine tutto è filato liscio ci sono stati disagi maggiori soprattutto per la città che è stata blindata ma non per gli scontri e adesso ve lo dicevo nell'anteprima dobbiamo fare gli auguri e i complimenti a Irma Testa che è salita sul tetto del mondo volteggiando come una farfalla avrebbe il caso di dire visto che Butterfly è proprio il suo soprannome è diventata campionessa nel mondo del pugilato femminile la liturgia solenne del ring di Nuova Delhi per incoronare la ragazza d'oro di torna annunziata baciata dal talento nella nobile arte che incarna alla perfezione dopo la cintura europea anche quella che abbraccia il mondo per Irma Testa che ha volteggiato in questo torneo con la tecnica raffinata di sempre che la sua avversaria ha provato a sfidare sullo stesso terreno ma la kazaka Ibrajimova ha subito la box perentoria di Irma un concentrato di mobilità e scelta di tempo per colpire 5 a 0 il verdetto per fortuna nessuna sorpresa dalla giuria l'essenza del pugilato dell'azzurra è una danza fatta di leggeadria e ritmo per la quale è soprannominata Butterfly proprio come una farfalla lei ti posa al suo jebb quando te ne accorgi è troppo tardi l'oro nella categoria al limite dei 57 kg è un autografo speciale che racchiude passione e sofferenza la condividere con chi l'ammira e la sostiene ho sacrificato tutta la mia adolescenza tutta la mia vita però se questi sono i risultati vorrei farlo per altri vent'anni Irma è la diva della nostra box non per atteggiamenti snobistici ma per la capacità di valicare quelle colonne d'ercole che pesano nello sport prima italiana a partecipare all'Olimpiadi a Rio nel 2016 è capace poi di salire sul podio con il bronzo di Tokyo ha incantato in questo appuntamento in India e adesso manca solo il grande obiettivo per raggiungere il massimo ai giochi di Parigi il paradosso però è che prima dovrà qualificarsi attraverso gli europei del prossimo giugno perché per una polemica tra Iba e Cio i mondiali non vengono riconosciuti per il passo olimpico la testa apri pista a grandi livelli esempio che molte ragazze stanno seguendo nelle palestre grazie al pugilato ha smesso di nascondere la sua omosessualità ha fatto coming out e dato la spinta per uscire allo scoperto a tante donne e questa è la medaglia di Irmana Dolce Anche la citazione cinematografica complimenti alla campionessa di Torra Annunziata dopo di noi ospiti di Nonda Annalisa Cuzzocrea Luca Sofre e Francesco Specchia ci fermiamo qualche istante eccoci stavo controllando non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi linea dunque a De Gregorio e a Parenzo se volete noi ci vediamo domani poco prima delle 20 buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti